Siamo riusciti a prendere il tram di Milano! Siamo in mezzo alla gente ma ci sentiamo a Milano Tutto scritto in italiano, l'autista è un po' un pazzo, continua a parlare senza nessun motivo C'è la pubblicità dell'Olio Cuore E' divertentissimo Grande, è vietato sputare, è vietato sporgersi Ci sono 29 posti a sedere C'è la fermata prenotata quando schiacci il bottone E' bellissimo, bellissimo!